Sono Kamala, ho 18 anni e sono al mio secondo tentativo di gravidanza. Un anno fa ho perso il mio primo figlio a quattro giorni di vita, a causa di una violenta polmonite. È nato molto debole, durante la gestazione non mi sono curata, non ho potuto mangiare in modo completo e non ho riposato a causa del lavoro nei campi. Per questo adesso ho deciso di prepararmi al parto grazie al presidio sanitario di Save the Children. Seguo una dieta molto sana, ho fatto tutte e quattro le visite prenatali, vaccini antitetano e assumo regolarmente ferro. A breve partorirò e non so dire come mi sento. Un anno fa ho perso mio figlio, ma ora non ho paura, sono felice. So che mi sto prendendo cura di me e del mio bambino e che vivremo felici nella nuova casa che mio marito sta costruendo per la nostra famiglia.